Mercoledì 8 febbraio 2023, buongiorno dalla redazione della Nuova Riviera per la Quotidiana, rassegna stampa dei giornali del Piceno, partiamo subito con l'arresto del Cardino, lavori mai partiti, frode milionaria, si parla ovviamente dell'inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di due persone, quattro indagati, un terzo ai domiciliari e un quarto interdetto dalla possibilità di svolgere la professione, i quattro indagati dalla finanza per aver intascato il bonus facciate scoperti con intercettazioni e documenti, occhio alle truffe, lo vediamo nella foto centrale della pagina, SOS anziani, consigli utili dopo gli ultimi casi, le storie così hanno colpito, San Benedetto, strage in A14, riconosciute le salme, lo strazio del fratello della vittima, quindi grotta a mare, fotovoltaico, incendio sul tetto della piscina, andiamo all'interno del giornale, A14, i comuni ora battono cassa, trattative per i lavori nelle statali, il gruppo sarà a San Benedetto nei prossimi giorni, mentre è già intervenuto a grotta a mare e copra il fratello di Silvestrone in obitorio, immagini che non dimenticherò a San Benedetto per il riconoscimento, ora aspettiamo il nulla osta. La frode milionaria sulle ristrutturazioni in carcere, un amministratore di condominio e un geometra, nei guai anche due architetti, uno è finito agli arresti domiciliari, da San Benedetto a Monte Prandone, quei lavori mai eseguiti nei palazzi sono in corso, ulteriori accertamenti anche sulla base del materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni, allarme truffe, anziani nel mirino, ecco come colpiscono, negli ultimi giorni sono tornate in azioni persone senza scrupoli, la necessaria, la massima attenzione, il racconto quindi di due signore, ecco come ci hanno raggirate. Ambulanza 4x4 per le aree montane, nuovo mezzo messo a disposizione dall'azienda sanitaria territoriale 5, adatto anche al trasporto di plasma, organi e pazienti obesi. Lo studente ad Ancara dopo il terremoto. Ora voglio rimanere Samuele Mariotti di Rocca Fluvioni, arrivato in Turchia 12 ore prima del terribile sisma. Andiamo nelle pagine di San Benedetto Tari, ecco a chi sono destinate le agevolazioni, le misure presentate dall'assessore Pellei vanno in tandem con lo stralcio delle multe. Quindi palestra in basso, la provincia punta ad ottenere altri 6 milioni di euro, in cima alla lista di priorità ci sono il plesso di via Sgattoni e quello di viale De Gasperi, la mappa dei possibili interventi. Dall'Egitto bloccano il viaggio di mio fratello, la denuncia di Omnia che da 32 anni vive a San Benedetto e vorrebbe riunirsi con il familiare, ma il consolato continua a dire di no. Quindi l'incendio di Grotta Mare a fuoco, l'impianto fotovoltaico, incendiato il tetto della piscina comunale, il pronto intervento dei pompieri ha evitato che fosse danneggiata anche la struttura. Infine lungo mare arrivano anche le nuove panchine per quanto riguarda i lavori in corso a Grotta Mare. Andiamo ora al Corriere Adriatico, Piceno, venti di ripresa, più di 20.000 imprese hanno resistito al Covid e all'inflazione, va meglio che nel resto delle marche edilizia e turismo nel 2022 sono stati settori trainanti, ancora in sofferenza, commercio e trasporti. Quindi sogno azzurro a Riviera delle Palme, il sindaco vuole la nazionale di Mancini, c'è la possibilità che si giochi Italia-Malta nel mese di ottobre. Quindi in basso i richiami di interno pagina, Ascoli, Balli in maschera, rivive il fascino dell'Ottocento, quindi Tari a San Benedetto, premiate le famiglie numerose e le aziende in rosa. Quindi infortuni sul lavoro ad Ascoli, donne e giovani, sono i più colpiti. Quindi soldi per lavori fantasma, presi i furbetti del bonus blitz della finanza, truffa da 900.000 euro, due in carcere e due agli arresti domiciliari. Andiamo alle pagine di Ascoli, Piceno, del Corriere Adriatico, Covid e inflazione all'angolo. Il Piceno ora vuole ripartire in un anno leggero calo di imprese, ma è andata meglio che nelle altre province della regione. In crescita gli infortuni sul lavoro a fare le spese, sono gli under 20 e le donne. In 12 mesi sono stati 308 in più, sono le categorie più fragili, quelle colpite. Bonus edilizi per lavori fantasma, l'inchiesta della guardia di finanza, truffa da 900.000 euro, quattro gli arresti. In carcere un imprenditore e un amministratore di condominio domiciliari per due tecnici. Balli ottocenteschi, ancora Ascoli, Piceno, spettacolo al circolo, un tuffo nel passato sul tema di orgoglio e pregiudizio. Ovviamente il tutto in avvicinamento al carnevale, particolarmente sentito nel capoluogo di provincia. Il Riviera fa sogni azzurri, la città vuole la nazionale, spazzafumo a colloquio con il governatore Acquaroli, difficile, ma ci proviamo. Quindi si incendia un pannello solare in basso la vicenda di Grotta Mare, paura in piscina, Grotta Mare, fiamme sul tetto dell'impianto, in fumo anche la centralina. Quindi le novità sull'Atari. Sconto alle famiglie numerose, a San Benedetto e premio all'imprenditorialità rosa. Le agevolazioni dopo la stangata dell'8% su smaltimento dei rifiuti e servizi a domanda individuale. La sicurezza a Sanremo parla San Benedettese, ne abbiamo parlato anche ieri. La FIFA Security dei Fratelli d'Angelo veglierà sui sogni tranquilli del Festival della Stazione. Grotta Mare, panchine intelligenti, lungomare ricarica, sedute letterarie smart, stalli per le bici. I nuovi arredi costano 100.000 euro, quindi in basso. Sold out per i ragazzi e le ragazze della Riviera. State buoni, se potete, a quota. Mille biglietti. Andiamo alle pagine dello sport. Del resto del Carlino, Ascoli, Breda, pensa al trequartista. Ipotesi 3-4-1-2 per la prima partita. Alle spalle delle due punte, ballottaggio tra Ciciretti e Marsura. In difesa, Bellucci pronto a tornare titolare. L'ultimo sorriso oltre sette anni fa grazie a HCA. Il picchio non supera gli Umbri. Aldelduca dal novembre 2015. Quindi la Serie C con la fermana. Derby in vista. Loro sono forti, noi pronti. Domenica c'è l'Ancona. Mister Protti afferma che vengono da tanti risultati positivi e da un mercato importante. Ci sarà una cornice di pubblico fantastica e giocheremo in casa. Quindi in basso la Serie D. Samb ancora niente rimborsi. Scade l'ultimatum e ci sono altri pagamenti in vista. In tutto questo la squadra pensa al campionato. Trasferta a Pineto. Passiamo al Corriere Adriatico. L'Ascoli di Breda scopre le carte. Il nuovo allenatore non avrà simice squalificato. Resta il dubbio. Dionisi, il tecnico, ha subito svolto allenamenti intensi e punta sull'aspetto atletico. Mentre per quanto riguarda gli avversari, il Perugia sarà privo di Santoro. Tre cambi in panchina per salvarsi. Breda all'Ascoli, Possanzini al Brescia e Stellone al Benevento. Il punto sulla Serie B di Matteo De Angelis. Ora si pensa al rush finale. Sono legato alla Samb, parla l'imprenditore Rapullino. Seguo con attenzione gli sviluppi ma da qui ad un mio impegno diretto ne passa. L'imprenditore Campano afferma i tifosi sperano in un mio arrivo. Sono onorato. Massi non lo conosco. In basso il Porto d'Ascoli recupera. Oggi nella Tana della Vastese. Napolano carica la squadra. Dobbiamo riprendere la corsa. Quindi il punto, i numeri della Serie D con il Fortino Bianchelli. La Vigor consolida il secondo posto grazie a 28 punti guadagnati in casa. Il Rosso Blu con il terzo migliore attacco. 31 reti dietro a Pineto e Trastevere. Bene, anche per questa mattina è tutto con la rassegna stampa. Continuate a seguirci sulla nuovarivera.it. Noi vi auguriamo una buona giornata. 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 Grazie a tutti.